Entro 60 giorni i periti nominati dalla Procura della Repubblica di Salerno, il medico legale e l'anatomo patologo entrambi del Policlinico Gemelli di Roma presenteranno una relazione dettagliata sulla morte del bimbo di 5 anni in base agli esami istologici che saranno eseguiti sui campioni prelevati ieri pomeriggio nel corso dell'autopsia. Ma secondo i primi risultati è stato un infarto fulminante a stroncare la vita del piccolo Vito, deceduto venerdì sera in una palestra dove si praticano arti marziali a Borgo Cariglia, frazione di Altavilla Silentina. Il bambino era da poco entrato nella palestra del Centro Sportivo Azzurra per un corso di avviamento al judo e aveva da poco cominciato a fare i primi esercizi quando si è improvvisamente accasciato al suolo. Vani sono stati i tentativi di rianimarlo. A conferire l'incarico ai due medici romani che hanno effettuato ieri l'esame autoptico è stato il PM della Procura di Salerno, Patrizia Gambardella, titolare dell'inchiesta. Al momento non ci sono persone indagate. Da venerdì i carabinieri della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Cisternino, stanno continuando a raccogliere documentazioni e testimonianze che sono al vaglio del magistrato. La relazione che verrà consegnata dal medico legale e dall'anatomo patologo di Roma farà poi chiarezza sulla morte del piccolo Vito, sull'esistenza o meno di un problema congenito al cuore o su cosa possa aver causato un infarto ad un bambino di soli 5 anni. Grazie. 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 Grazie.